Sono contento del gol, ma più che altro per la squadra, perché diamo un segnale forte che non mogliamo mai. Anche quando siamo in difficoltà ci mettiamo la faccia, quindi sono contento per quello. Eri andato vicino al gol qualche minuto prima con quell'azione prepotente che aveva visto poi il pallone terminare sull'esterno della rete. Ma questa sera, almeno per quello che abbiamo visto dalla tribuna, sono stati proprio i giocatori che sono entrati in campo a gara in corso a cambiare la partita. Tu, Del Sole e Monachel. Sì, il mister mi ha detto di mettermi sulla fascia, terzino per spingere. Ho creato quell'occasione, peccato perché non è andato a finire, perché se tiravo sull'altro palle magari potevo fare gol. Peccato, però siamo sulla strada giusta. Guardiamo invece il gol, raccontaci un po'. È stato un cross, io ci credo sempre, quando arrivano i cross sul primo palle mi ci butto sempre. È andata bene che ho preso la palla, poi è entrata, quindi sono contento. Da sicuro, te lo diciamo che l'abbiamo rivista 100%. Sì, sì, mi hanno scritto amici miei che è entrata, quindi bene così. C'è stato molto nervosismo proprio dopo il tuo gol, ci sono state le proteste dei giocatori della panchina del Cosenza. Insomma, questa sera avete trovato un ambiente anche caldo qui a Cosenza. Sì, sicuramente un ambiente caldo dove non è facile venire e imporre il proprio gioco, però come ho detto prima siamo una squadra che non molla mai, quindi anche nelle difficoltà siamo riusciti a guantare un punto e va bene così continuiamo su questa strada. L'ultima da parte mia, Crecco, perché comunque avete dato la dimostrazione, poi dopo il gol dell'1-1 in quei minuti finali, di crederci fino in fondo. Alla fine vi andava anche un po' stretto il pari? Siete d'accordo? No, sono d'accordo perché abbiamo dato tutto, volevamo vincerla, siamo venuti qua per vincere, però abbiamo provato fino all'ultima di fare anche il secondo, ma abbiamo comunque dato un segnale forte che siamo una squadra che non molla mai. A proposito, scusami perché ti sei anche ritagliato un posto come terzino sinistro tra i tanti ruoli tuoi. Sì, posso fare tutto, il mister lo sa, anche terzino, dove mi mette sulla fascia posso giocare. Ti aspettavi di giocare di più in questa prima parte di stagione o sei contento per quello che sei riuscito a fare? Sicuramente mi aspettavo di più, però le scelte le fa il mister, quindi sono contento comunque per la squadra. Il lunedì c'è la gara con il Lecce, una gara importante, tornerete allo Stato Adriatico, cercherete di far dimenticare ai tifosi la sconfitta con il Cittadella. Tu ovviamente cercherai invece di guadagnarti un posto da titolare dall'inizio, proprio sulla fascia, perché no? Sicuramente è una partita non facile, Lecce è una buona squadra, però veniamo da una sconfitta e un pareggio, quindi vogliamo imporre il nostro gioco e portare a casa i tre punti se ci riusciamo. Per chiudere, cosa nella gara con il Cittadella e questa sera non ha funzionato a dovere nel Pescara rispetto alle precedenti esibizioni, perché fino a dieci giorni fa avevate giocato sicuramente delle ottime partite. Questa sera e con il Cittadella qualcosa di meno buono si è visto secondo te per te? Ci sta, dopo la decima partita ci sta un po' di stanchezza, come ho detto prima non possiamo fare dieci partite al meglio, però adesso stiamo bene, anche chi è entrato alla panchina sta sempre bene, si fa trovare pronto e quindi continueremo così.